I fedeli potranno recarsi liberamente in pellegrinaggio a Medjugorje per fare esperienza dei frutti spirituali l'immaturati a stabilirlo con un documento e il di Castero per la dottrina della fede. A Trani un momento di preghiera e catechesi in occasione dei cento anni dal primo congresso eucalistico interdiocesano pugliese celebrato nel 1924. L'asla di Bari e il comune di Putignano promuovono un progetto di recupero e valorizzazione della chiesa rupestre di San Michele Arcangelo a Monte Laureto. 27 i daspo emessi dal questore di Barletta Andrea Trani e Alfredo Fabbrocini in poco più di due mesi intensificheremo, promette le attività di prevenzione. Presentato nell'ambito della rassegna I dialoghi di Trani, il libro di Marica Catalano, una donna con disabilità che racconta la sua vita spericolata. Ben trovati in nuova edizione del nostro notiziario, lo avete sentito dai titoli dopo anni di attesa. Arriva la sentenza della Santa Sede, i fedeli possono recarsi liberamente in pellegrinaggio a Meggiugorie. Allora ascoltiamo il servizio di apertura a firma di Marilena Farinola. I fedeli potranno recarsi liberamente in pellegrinaggio a Meggiugorie per fare esperienza dei frutti spirituali, li immaturati. La nota Regina della Pace mette così un punto fermo sulla questione che va avanti dal 24 giugno 1981, quando cominciarono le presunte apparizioni. Il documento del di Castero per la dottrina della fede, approvata da Papa Francesco lo scorso 28 agosto, non si pronuncia sulla soprannaturalità ma riconosce gli abbondanti frutti spirituali legati alla parrocchia santuario della Regina della Pace e formula un giudizio complessivamente positivo sui messaggi pur con alcuni chiarimenti. Nella nota, secondo quanto stabilito dalle nuove norme sul discernimento dei fenomeni soprannaturali, si autorizzano i fedeli ad aderire all'esperienza spirituale di Meggiugorie, in quanto si sono verificati molti frutti positivi e non si sono diffusi nel popolo di Dio effetti negativi o rischiosi. Complessivamente è positivo anche il giudizio sui presunti messaggi pur con dei chiarimenti su alcune espressioni. Le conclusioni della nota, si precisa nel testo, non implicano un giudizio circa la vita morale dei presunti veggenti. In ogni caso, i doni spirituali non esigono necessariamente la perfezione morale delle persone coinvolte per poter agire. Aree interne tra difficoltà e opportunità. Su questo argomento abbiamo ascoltato Monsignor Vito Piccinonna, Vescovo di Rieti. Sentiamo. Lei è Vescovo di Rieti, una chiesa che fa parte delle aree interne. Allora, quali difficoltà, ma allo stesso tempo quali opportunità vive questa zona, questo territorio? Sì, sicuramente l'opportunità è quella anche di avere dei piccoli centri in cui ciascuno è davvero importante. Non c'è la logica dell'ammasso, non c'è la logica sicuramente di un insieme ammassato di persone. Quindi anche queste piccole realtà, piccole frazioni, piccoli centri custodiscono davvero con saggezza, con sapienza quella grammatica dell'umano che talvolta anche nei grossi centri manca o si è perso. Quindi la capacità di riconoscere le proprie singolarità o unicità. La fatica è quella della ricostruzione, la fatica è quella di tenersi uniti perché ciascun centro potrebbe dire il mio è più importante. E quindi ecco, io penso che la fede, la chiesa abbia una marcia in più. E quindi un credente non può non vivere quella dimensione anche di maggiore comunione. Dovrebbe essere capaci sempre di più di tessere, di fare dei ponti, no? Anziché di rinchiudersi a volte nelle proprie individualità. Però ecco, sono sfide bellissime a cui il Vangelo ci invita anche a dare una risposta più sensata e più mirata. A Trani un momento di preghiera e catechesi in occasione dei cento anni dal primo congresso eucaristico interdiocesano pugliese, celebrato dal 30 aprile al 4 maggio 1924. Ascoltiamo. L'Eucaristia è il cantiere su cui si costruisce la chiesa? Sì, stiamo vivendo la memoria di questo congresso eucaristico diocesano, interdiocesano, vissuto qui a Trani cento anni fa. E questa memoria grata diventa l'occasione per dirci, per ridirci che appunto l'Eucaristia è ciò di cui la chiesa vive, ciò da cui la chiesa nasce e ciò di cui si alimenta per essere quello che deve essere. L'immagine del cantiere ci dice che l'Eucaristia è ciò che dà forma alla chiesa. Dobbiamo sempre più riscoprirla come fonte, come culmine della vita della chiesa. E questa è una bella occasione proprio per riparlare alle comunità cristiane nostre riscoprendo il valore e la bellezza dell'Eucaristia. Perché fare memoria? Fare memoria ci aiuta proprio a ricordare e a celebrare ciò che è stato già vissuto cento anni fa. E che noi oggi vogliamo proprio invitare la gente a riflettere, a pregare e a considerare importante nella vita di un cristiano l'Eucaristia. Quindi il centenario ci spinge proprio a fare dell'Eucaristia il nostro punto di forza nella vita. L'ASL di Bari e il comune di Putignano promuovono un progetto di recupero e valorizzazione della chiesa rupestre di San Michele Arcangelo a Monte Laureto. Nel prossimo servizio le immagini della consegna simbolica delle chiavi. Un protocollo di restauro per restituire l'antica bellezza ormai dimenticata alla chiesa rupestre di San Michele Arcangelo a Monte Laureto, a Putignano, nel Barese. Si consegna così il bene storico alla collettività. Lo si fa grazie al protocollo di intesa tra l'ASL Bari e il comune di Putignano. Attraverso il contratto di comodato d'uso gratuito, l'azienda sanitaria ha affidato il bene di sua proprietà ormai da 20 anni all'amministrazione comunale, che a sua volta si impegna a realizzare la riqualificazione del sito e a potenziarne il valore turistico e culturale. L'intervento di tutela sarà finanziato con fondi regionali del valore di 80 mila euro che l'ente comunale ha ottenuto tramite la candidatura ad un avviso pubblico rivolto agli enti locali per sostenere interventi di tutela e valorizzazione delle chiese rupestri presenti sul territorio regionale. La chiesa di San Michele Arcangelo, risalente forse al 591 e ricavata in una grotta naturale di origine carsica, fa parte del complesso edilizio in cui si trova la struttura sanitaria dell'ASL. Nei prossimi mesi sono previsti gli interventi di restauro della grotta, a cui seguirà una gestione che garantirà percorsi spirituali, religiosi e culturali per promuovere l'intero territorio. Cambiamo argomento, sono stati 27 i DASPO emessi dal questore di Barletta Andrea Trani e Alfredo Fabbrocini in poco più di due mesi. Intensificheremo, promette, le attività di prevenzione per rendere sicuri gli stadi. Il servizio è di Alba Di Palo. Dalla pallacanestro al calcio, dai dirigenti sportivi ai tifosi, i DASPO, i provvedimenti che vietano la partecipazione ad appuntamenti sportivi, hanno riguardato chiunque abbia messo in atto comportamenti contrassegnati dalla violenza, ha spiegato il questore di Barletta Andrea Trani, Alfredo Fabbrocini, che solo nel periodo compreso tra maggio e luglio scorsi ne ha firmati 27, il doppio di quelli emessi in tutta la stagione sportiva precedente. L'obiettivo è intensificare le attività di controllo finalizzate all'emissione dei divieti. Abbiamo alzato il livello di attenzione, quindi certi comportamenti che prima forse venivano tollerati, adesso non vengono più tollerati. Abbiamo aumentato e la presenza del personale per gestire l'ordine pubblico, ma abbiamo aumentato anche le persone, anche grazie alla collaborazione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, le persone che sono deputate all'attività strettamente investigativa per identificare le persone che in qualche modo metteranno in essere comportamenti di questo tipo. I provvedimenti, che hanno una durata che varia da due ai cinque anni, sono stati emessi dopo una precisa attività investigativa. Siamo andati a cercare tutti gli episodi che in qualche modo sono stati contraddistinti da violenza o anche dal semplice lancio di un petardo o di un fumogeno. Ogni gesto che in qualche modo va a turbare la serenità e la tranquillità dell'ordine pubblico, ma in generale la tranquillità delle persone che amano lo sport e che vanno allo stadio è stato perseguito. È un modo per spiegare quella che sarà la linea della Polizia di Stato anche per il prossimo campionato. Tra i destinatari dei DASPO ci sono anche un dirigente di una società di pallacanestro e un calciatore. Ci sono stati un paio di episodi in cui abbiamo daspato un dirigente, non è stato possibile farlo per il calciatore, per una questione giuridica, ma abbiamo comunque avviato il procedimento proprio per evidenziare che certi comportamenti, quando vengono tenuti da chi dovrebbe dare il buon esempio, sono ancora più gravi. Al termine dei lavori, Via Don Minzoni sarà più sicura e avrà più verde. Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, chiarisce la questione dell'abbattimento degli alberi lungo il viale. Una strada che già in passato è stata teatro di incidenti. Si tratta di interventi finanziati dal Ministero nell'ambito del PINQA. Sentiamo. È necessario che sulla questione dei PINI di Via Don Minzoni i cittadini e soprattutto i residenti del quartiere abbiano le idee chiare. Il progetto di sostituzione di quei PINI e il rifacimento di tutta quella strada mettendola in sicurezza incomincia già nel 2021. Ci sono stati vari incontri con i residenti e la cittadinanza fino al 2024, nella quale appunto era previsto l'abbattimento e non ci erano state obiezioni. Recentemente il Comitato per il Verde ha fatto, sollevato delle obiezioni, ha presentato una perizia tecnica, noi ci siamo confrontati sia con il Comitato sia col perito e è venuto fuori che il progetto di rifunzionalizzazione dell'intera area e di messa in sicurezza della strada, che vi ricordo come potete vedere dall'elenco degli incidenti provocati, quella situazione ha provocato diversi incidenti come potete vedere e diverse disfunzioni. quindi noi mettiamo in sicurezza la strada creando anche un rondò e invece dei 60-66 PINI che hanno dato questi problemi, perché come potete vedere i PINI sono stati piantati in appena 5 centimetri di terreno e quindi nella roccia e le radici hanno invaso persino le tubature dei sottoservizi elettrici e negli anni precedenti sono stati fatti degli interventi contenitivi, come oggi suggeriscono il perito e il Comitato, ma non sono serviti a nulla. La questione è che invece dei 66 ne verranno 140 alberi, noi abbiamo avuto questi finanziamenti su un procedimento cominciato nel 21. Ora, ricambiare il progetto, come giustamente dice lo stesso tecnico del Comitato, che si tratta di fare un altro progetto, significa perdere i finanziamenti, ma soprattutto vorrei farvi osservare che invece dei 140 nuovi alberi che cresceranno in breve tempo, noi è come se adesso facessimo un discorso, io mi tengo i 66, mantengo la situazione così com'è e rinviare nel tempo, a 3 anni, a 4 anni il problema. Oggi c'è davvero la possibilità di rinnovare l'intera arteria, metterla in sicurezza, aumentare il numero degli alberi e il progetto finito, come potete vedere dalle immagini, consegnerà un'area funzionale, con più verde, con sicurezza e guardando al futuro. È stato presentato nell'ambito della rassegna, i dialoghi di Trani, il libro di Marika Catalano, una donna con disabilità, che racconta la sua vita spericolata. I dettagli nel servizio. Un libro per spiegare che siamo tutti solo ed esclusivamente persone, con caratteristiche differenti, ma persone. Pagine che raccontano una vita complicata e unica. Sono Marika, disabile spericolata di Marika Catalano, non è solo un libro, ma è un viaggio fatto di emozioni contrastanti. Sfogliando nelle pagine si colgono le difficoltà nate in famiglia, i contrasti con la madre che non ha accettato la diversità della figlia e di una donna che non si è posta a limiti. Fare danza acrobatica. Una cosa che io adoro è fare danza acrobatica perché mi fa sentire molto lì la borsa danza. Era un sogno che avevo da bambina e ora ho posto del giallo. Ad ascoltare Marika gli studenti che hanno per un po' lasciato i cellulari per immergersi in una storia che chiede di essere vissuta con normalità. Mi auguro che la gente impari a liberarsi dai pregiudizi e a capire che siamo tutti persone, prima anche disabili o altro. Siamo tutti esseri umani e non dobbiamo essere catalogati in categorie. Sono in mostra al Torrione Angioino di Bitonto, opere inedite dell'artista Nicola Liso. L'esposizione sarà visitabile fino al 30 settembre. Sentiamo. Un'ampia produzione artistica rimasta inedita per anni, nascosta in un piccolo locale a ridosso di Lama Balice, che per l'artista rappresenta il suo rifugio creativo. È oggi accessibile a tutti grazie a una personale inaugurata al Torrione Angioino di Bitonto e fruibile fino al 30 settembre. Sono in esposizione le opere che Lison, come solito firmarsi l'autore bitontino Nicola Liso, ha realizzato nel corso della sua vita. A quest'età fare una mostra del genere per me è stata la cosa più bella probabilmente che ho realizzato nella mia vita, perché non è che sono un po' grandicello di età. Ammiro molto quasi tutti i pittori francesi, Renaud Argo, Carrara, Monet, Manet, Techirico, tutti i pittori di quell'epoca, l'espressionismo, l'impressionismo, però non faccio fede a quello che fanno loro. Io l'ho detto come ho detto prima, dipingo quello che mi viene in automatico fare. Patrocinata dal Comune di Bitonto, la mostra è un sogno che si realizza dopo tanti anni. Il sogno è quello di aver esposto e di far vedere quel che io sono stato capace di fare e mi auguro che prenda un esempio da me, perché l'ho detto, è una cosa che fa molto bene. Dopo i lavori di adeguamento agli impianti, dopo i lavori soprattutto di adeguamento agli impianti di illuminazione, viene concesso per una mostra. Viene data la possibilità a chi si propone di poter esporre le proprie opere, i propri lavori. Questa volta Nicola Liso, che ci fa dono di queste opere, di questi suoi lavori. La possibilità quindi viene data ai tanti cittadini di poter vedere sia le opere di un artista, uno che mette in evidenza il proprio impegno, il proprio lavoro, ma anche la possibilità che viene data ai tanti cittadini e non solo anche ai tanti forestieri di poter ammirare questo straordinario gioiello della nostra città. Un percorso storico-artistico che valorizza Castellana Grotte e quanto intende fare il progetto Le Porte della Badessa, nato grazie alla collaborazione tra Società Grotte, Comune e Proloco. L'arte che sfida l'usura del tempo, un viaggio nella storia di Castellana Grotte, addentrandosi tra vicoli e case, ma anche tra strade sconosciute perché custodite nel sottosuolo. Un percorso che promette a curiosi e turisti di conoscere un passato inedito e risalente a quando il potere spirituale e temporale era detenuto da una donna, la Badessa del monastero di San Benedetto, alla quale erano concessi privilegi straordinari come l'uso delle insegne vescovili. Si chiama Le Porte della Badessa, il progetto culturale e di valorizzazione urbana nato da un'idea della Proloco, Don Nicola Pellegrino, e sostenuto dal Comune e dalla Società Grotte di Castellana e che sarà disponibile dal prossimo autunno. Si tratta di un cammino storico e artistico che collega il centro alle grotte e le grotte al paese e che passa attraverso la decorazione di porte di immobili abbandonati che raccontano il passato di Castellana. Questa è un'iniziativa che nasce nel 2018 e nasce soprattutto con l'intento di rendere bello il brutto. Per brutto non intendiamo il centro storico che, come diceva il Presidente, è molto bello, ma le porte abbandonate, arrugginite e degradate le abbiamo dovute trasformare in opere d'arte. Così l'obiettivo è proprio quello di trasformare il centro storico in una galleria a cielo aperto. Per la Società Grotte di Castellana SRL il percorso legato alle porte artistiche è una sfida che trasforma le porte in opere di bellezza ritrovata. Visitare le grotte non è soltanto turismo, è anche apprendere la cultura. Quello che è successo milioni e milioni di anni fa, noi uomini dobbiamo soltanto amministrarlo per bene e conservarlo. Era l'ultimo servizio, si chiude questa edizione del nostro notiziario. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Teledeon. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Teledeon.